Pronti? Via! Dai, forza! Dai, forza! Dai, un po' più di forza! Dai! Forza! Forza! Forza, forza! Dai, bravo, dai! Così, bravo! Dai! Bravo, bravo! Dai! Forza! Più forte! Più! Andai, forza! Dai, forza, più forza, dai, continua! Dai, che ce la fai! Dai, basta così, si, ma dai, continua! Interruzione! Nessuno ti ha spinto! Con il suo braccio aveva toccato il cecola rosso! Nessuno ha spinto, nessuno! Tentavo di protizzare! Facciamolo di voi! Stronzate! Attento, Giordani! Non mi mettere più in una situazione del genere. Andiamo, battendo, perciamolo! Grazie a tutti